Cosa vuol dire produrre un farmaco ad alta tecnologia? Quali sono le complessità da affrontare? Ne parliamo con Olaf Thiel a capo del sito produttivo di Roche situato a Segrate nelle vicinanze di Milano perché proprio qui verrà prodotto per tutto il mondo un nuovo e innovativo farmaco antimelanoma. Dottor Thiel prima di entrare nell'argomento specifico per cui siamo qua oggi. Ci dice cosa producete qui a Segrate? A Segrate produciamo un bel mix di prodotti maturi e di prodotti molto innovativi. Prodotti maturi abbiamo due esempi per il Thielsept per trappianti e il Madopà contro il Parkinson. Come prodotti molto innovativi abbiamo il Vemurafenib di quale produciamo ancora piccoli volumi. E tra i prodotti invece maturi cosa fate qui? Noi facciamo in totale 1.065 tonnellate nel 2012. Di questi abbiamo cinque prodotti grandi come detto il Thielsept e il Madopà di quale facciamo più di 300-350 tonnellate. Invece prodotti innovativi come il Vemurafenib pianificato per il 2012 sono 12 tonnellate. Ecco, lei come ci ha detto appunto qui a Segrate è partita da poco la produzione del Vemurafenib, questo farmaco innovativo per la terapia del melanoma in fase metastatica. Cosa ci dice sulla produzione di questo farmaco? Cosa fate voi qua esattamente? La produzione del Vemurafenib a Segrate è stata scelta perché a Segrate abbiamo una Pilot Scale Facility. È una parte dell'impianto molto speciale dove facciamo anche lo sviluppo del processo per la produzione di nuove molecole. Questa Pilot Scale Facility ci facilita la trasferta dal laboratorio di ricerca per la produzione del lancio. Il lancio di un nuovo prodotto contiene anche modifiche al processo produttivo. Ecco, voi qui fate il prodotto finito, fate il prodotto cosiddetto in bulk. Cosa esce da Segrate? Da Segrate esce per tutto il mondo la produzione di bulk e per il mercato americano facciamo il confezionamento in Spagna, invece per l'Europa e il resto del mondo facciamo anche il confezionamento in blister qui a Segrate. Ecco, che specificità ha la produzione del Vemurafenib? C'è una tecnologia particolare dietro, ce la spiega? Il Vemurafenib ha dalla parte di principio attivo una parte molto difficile che si chiama Micro Participated Bulk Powder. Quel MBP è una parte tecnologica molto avanzata. Per la produzione di solidi, delle compresse che produciamo qui a Segrate, la parte speciale è il Direct Compression che facciamo con un Roller Compactor. Bene, noi vediamo le confezioni finite, non ci preoccupiamo minimamente di come ci si arriva, ma in effetti la strada spesso è molto complessa. Ecco, per chiudere, dottor Thiel, perché Roche, Roche a livello mondiale, ha scelto proprio l'Italia per produrre questo farmaco per tutto il mondo? Quali sono le caratteristiche che hanno fatto preferire Segrate? La parte più importante è la qualifica delle persone. Le nostre persone a Segrate danno fiducia alla Roche che siamo capaci di produrre questo farmaco anche abbastanza complesso.